Questo confronto sulla legge elettorale per ora si vede più sui giornali che nelle aule parlamentari. Io mi auguro che invece si cominci a discutere nelle aule parlamentari. Certo, bisogna aspettare anche le motivazioni della sentenza, ma nel frattempo non bisogna perdere tempo a mio avviso. Poi salta gli occhi che ci siano delle differenze tra le due leggi. C'è una differenza che ancora non è emersa, a me sta a cuore, quella della doppia preferenza di genere. Alla Camera ce l'abbiamo, al Senato no, quindi anche questo forse vale la pena attenzionare questo aspetto.